Ecco ci troviamo presso la redazione di Araberara e incontriamo il direttore Piero Bonicelli ma innanzitutto perché avete voluto realizzare un libro come questo? Beh perché come ho scritto da qualche parte perché non mi ricordo più dove scrivo le cose e quando le scrivo chi ricorda sarà ricordato perché questo è un anno tremendo, è un anno tremendo e lo sanno tutti quelli che l'hanno vissuto e non vedono l'ora che finisca sapendo però che il tempo è tutto attaccato, è una convenzione quella degli anni che noi segniamo e numeriamo. Quindi purtroppo la tragedia ci ha colpito soprattutto questa primavera territorialmente in modo inumano e davvero nessuno la poteva prevedere. Ci siamo posti il problema come lo affrontiamo? Vabbè veniva affrontato da tutti i media perché ovviamente Bergamo era diventato il fulcro, la terra martire e a quel punto ne parlavano tutti, noi come dobbiamo affrontarlo? E abbiamo pensato e abbiamo detto va bene facciamo raccontare a chi quella tragedia la sta vivendo la sua, la sua particolare tragedia e da un appello che abbiamo messo su Facebook tanto abbiamo detto va bene qualcuno ci manderà qualcosa ci sono arrivato una valanga di quelle che noi chiamiamo memorie. Le memorie erano quelle che i nostri vecchi mettevano sui vetri delle credenze, mettevano la foto ma anche nelle memorie di allora c'era sempre un riassunto praticamente di quello che era stato e come aveva vissuto quella persona. Non era semplice come usiamo adesso la data di nascita, la data di morte o con una frase magari tolta dalla Bibbia no no allora raccontavano proprio c'era tutta una serie di frasi di ricordi che venivano pubblicate nella stessa memoria ecco venivano messe nelle credenze le chiamavano le memorie noi abbiamo detto facciamo delle memorie beh il primo numero in cui abbiamo pubblicato queste memorie erano 28 pagine di giornale pieno di memorie pieno pieno poi abbiamo proseguito sempre con 11 15 pagine per un mese o due di tutte queste memorie poi va bene il giornale c'è però qualcuno ha perso un numero qualcuno si è stracciato qualcosa che abbiamo detto va bene le raccogliamo e abbiamo fatto riferimento a Spurriver Spurriver lo dico per quelli che ovviamente non sanno cos'è l'antologia di Spurriver di Edgar Limmaster ed è un libro che negli anni 70 80 è stato un punto di riferimento per la letteratura anche italiana pur provenendo da quella nord americana erano i tempi in cui i grandi scrittori nord americani arrivavano nell'europa tradotti anche da Fernanda Pivano per italiano e quindi introdotti questa antologia è una cosa semplice se volete e c'è lui immagina che i morti di un piccolo paesino che stanno su una collina raccontano se stessi raccontano quello che sono stati le loro miserie le loro gioie poche e le loro sofferenze ma anche le maldicenze che erano insomma diffuse su di loro e loro magari le smentiscono rettificano fanno raccontano loro stessi Fabrizio D'Andrea ne ha fatto un disco che secondo alcuni era addirittura un miglioramento del libro stesso di Edgar Lim Master quindi noi Spoon River l'abbiamo intitolato per dire che qui a raccontare non sono i morti stessi ovviamente altrimenti sarebbe una finzione qui a raccontare i loro morti sono i parenti i figli le mogli i mariti e comunque quelli che gli hanno voluto bene e li hanno raccontati alcuni con due o tre frasi alcuni con con una specie di di resoconto di biografia addirittura ma anche di sentimenti pieni di sentimenti e noi non abbiamo messo i limiti di spazio abbiamo detto quello che vi viene e abbiamo conservato quello che gli è venuto e qui ci sono centinaia e centinaia di queste memorie che sono arrivate quindi non è il libro di tutti i morti il libro dei morti che sono stati ricordati e che ci sono stati mandati al giornale che sono stati mandati al giornale questo è la cosa ma alcuni anche da lontano poi non sappiamo bene come si fa i misteri della nuova comunicazione sono arrivati che so io da dalmine e alcuni dalla val brembana alcuni insomma dalla bassa bergamasca e anche dalla val camonica e dai paesi vicini insomma quello che abbiamo raccolto quello che è arrivato l'abbiamo raccolto e l'abbiamo raccolto in questo libro che è di 260 pagine niente di speciale se non che che è diverso qui non non accusiamo nessuno noi non facciamo la storia e le inadempienze presunte o meno quello che ci è capitato addosso un tsunami incredibile e quindi noi abbiamo voluto conservare i sentimenti che questo tsunami ha lasciato sul campo perché non vadano persi perché tra qualche decennio tutti parleranno del 2020 ne parleranno tutti di questo 2020 sperando che non debbano parlare anche del 2021 perché altrimenti sarebbe un'altra un'aggiunta della tragedia anche se il nostro territorio adesso è toccato molto meno da questa pandemia è una cosa mondiale ma la curiosità è stata che Bergamo è stato il fulcro per per due o tre mesi è stato il fulcro di questa tragedia perché Bergamo noi non diamo delle risposte in questo senso noi raccogliamo appunto abbiamo raccolto quello che è il sentimento e l'affetto con cui vengono ricordati quelli che sono morti in quel periodo che sono tantissimi ovviamente sì alcuni c'è stato una cosa che alcuni ci hanno dato la memoria dei loro cari e poi sono anche loro stati ricordati da qualcun altro subito da una settimana dopo qualcosa del genere un mucchio di questa gente che abbiamo conosciuto abbiamo conosciuto anche perché un giornale cosa volete abbiamo rapporti un po' con tutti e quindi sono tante le persone che abbiamo conosciuto ma noi abbiamo lasciato che venissero ricordati da altri tranne due o tre casi che ho voluto ricordarli io e in aggiunta in aggiunta perché perché erano talmente hanno segnato talmente la storia anche della nostra valle e che era giusto anche che che venissero ricordati in modo in modo collettivo in modo comunitario oltre la cucina dove hanno vissuto la della loro famiglia e così quindi che andavano oltre perché i nomi sono tantissimi però alcuni hanno avuto hanno segnato davvero la storia nelle nostre zone quindi quelli hanno avuto magari anche un ricordo personale mio o di qualcuno di noi in genere però sono le testimonianze appunto dei dei loro parenti ci sono naturalmente io ho chiesto che qualcuno ci facesse l'introduzione e devo dire che ho dovuto selezionare perché erano nomi anche di prestigio cito Ferruccio de Bortoni che poi gli ho detto scusa ti offendi se non la pubblico perché dovevo fare appena due o tre brevazioni perché non potevo farne tante perché altrimenti diventava un libro e poi di gente però ho voluto gente che da lontano avesse vissuto Bergamo in quel momento come una città diversa da quella che magari avevano conosciuto passandoci o visitandola di così per un giorno o qualcosa così la solita storia di Bergamo Alta Bergamo Marcia allora abbiamo contattato Edoardo Boncinelli Boncinelli se andate a vedere su Google o su Wikipedia capite chi era Edoardo Boncinelli ha scritto una cinquantina di libri ed è un genetista quindi sa di che cosa parla è stato inserito dal Corriere della Sera nel 2011 tra i dieci personaggi italiani che hanno segnato la storia delle scoperte delle scoperte perché lui è stato un genetista che ha scoperto un gene per lo sviluppo del corpo umano e quindi si intende di medicina ovviamente di studia anche tante cose che andate a vedere se avete voglia e l'altro abbiamo detto siccome sono ricordati un mucchio di preti un mucchio di preti che sono morti sul campo anche questi si dà per scontato che il prete sia una specie di missionario e che quindi vabbè metta in conto di morire come tanti anche medici come tanti infermieri noi c'è una bellissima testimonianza di un infermiere nell'ospedale di Piario per esempio che abbiamo riportato perché era sconvolgente e fa capire in quei giorni cosa succedeva perché altrimenti sentire poi gente da fuori che dice siete stati furbi avete organizzato i camion con i camion li avete organizzati chissà cosa c'era dentro e siete stati furbi per avere i soldi una cosa sconvolgente perché per gente che ha vissuto cuorum ego perché anche io ho avuto un parente che è morto ma gente che ha vissuto una tragedia in casa sentirsi anche questo scetticismo che è dilagante in questo mondo qui per cui non si crede più a niente e quindi negazionisti anche di una pandemia che è evidente ci ha lasciato sul campo ci ha coinvolto ci ha buttato a terra praticamente e per rialzarci abbiamo davvero dovuto in certi momenti faticare faticare gente che ancora adesso fatica invece a salire le scale gente che è restata prostrata gente che non ha resistito e se ne è andata guardate che i suicidi in valle ci sono stati e ci sono e magari non vengono conteggiati anche questi non vengono conteggiati nel covid come anche i morti di riflesso quelli che non hanno potuto curare il cancro non hanno potuto fare le cure perché gli ospedali erano tutti pieni gente qui ci sono testimonianze gente ammassata nell'ospedale nei nostri ospedali piario in modo particolare erano ammassati nei corridoi su un materasso chi li ha potuti vedere per un attimo perché non si poteva neanche andare andare a trovarli a sentirli e non tutti gli anziani erano capaci poi di usare i mezzi moderni neanche il telefonino mandare messaggi quindi abbandonati a se stessi alcuni alcuni che la sera prima io ho un'esperienza di questa diretta di questa la sera prima mi dice respiro un po meglio e poi al mattino mi arriva la telefonata che è morto tragedie che vanno ricordate perché ripeto chi non ricorda non sarà ricordato ed è una cosa che dobbiamo a tutta questa gente le dobbiamo indipendentemente il libro noi lo regaliamo che chi vuol fare un'offerta lo fa altro beh ti viene a prenderselo e non c'è problema adesso non l'abbiamo portato in giro perché oltretutto non si poteva andare negli altri comuni quindi era eronico però adesso quando si aprirà appunto la possibilità di spostarsi o telefonate in qui in redazione e lo prenotate poi dite dove recapitarlo oppure venite a prendervelo in alcuni giorni non so nell'edicola di piazza dell'orologio c'è per esempio o al software nell'edicola e poi lo porteremo da qualche altra parte perché in questo momento qui anche spostarci è una cosa non è in libreria insomma e non è e non è in vendita ecco è un omaggio un omaggio un omaggio è poco dire un omaggio è un ricordo è un ricordo sì a noi sono state segnalate alcune situazioni e in quelle situazioni andiamo con la cortesia e anche con una certa discrezione ad aiutarle lo so che è difficile anche farsi aiutare delle volte perché noi abbiamo come mentalità una dignità che ci impedisce delle volte di dire che siamo che abbiamo siamo nel bisogno però fatelo noi cerchiamo nei limiti di quello che raccogliamo cerchiamo di aiutare grazie a tutti grazie a tutti